L'ex sindaco di Cerignola, Franco Metta, resta incandidabile dopo la pronuncia arrivata due giorni fa da parte della Corte di Cassazione. Rigettato dunque il ricorso di Metta, che chiedeva di annullare la sentenza della Corte d'Appello di Bari, arrivata a giugno del 2021. La domanda di incandidabilità arrivò a fine 2020 sulla scorta della relazione presentata dal Ministero dell'Interno per richiedere il decreto di scioglimento anticipato dell'amministrazione guidata dallo stesso Metta per via dell'ingerenza della malavita locale nell'attività dell'amministrazione. Ma la sentenza della Corte d'Appello di Bari in realtà non aveva comunque fermato la ricandidatura di Metta alle scorse elezioni comunali, terminate poi con il successo al ballottaggio del Francesco Bonito. Ed è stato proprio l'attuale primo cittadino a rilanciare la notizia, commentandole e richiamando l'attenzione proprio verso le ultime elezioni che sarebbero potute essere anche nulle. Il fatto grave è che Francesco Metta era candidato alla carica di sindaco della nostra città e non poteva esserlo. Se la incandidabilità fosse arrivata, la pronuncia giudiziaria sulla incandidabilità fosse arrivata nei tempi dovuti, la democrazia della nostra città avrebbe avuto un dispiegamento diverso. Il mio avversario non sarebbe stato Francesco Metta, ma un'altra persona degnissima, certamente, candidabile e non incandidabile, attraverso cui proporre alla nostra città opzioni personali e programmatiche serie. Grazie a tutti.